Magnani non è stato né musicista, né storico dell'arte, né grecista, però è stato tutto, ecco questo è il tratto che più colpisce del personaggio, la sua capacità di intrecciare e di far convivere elementi di discipline diverse senza mai chiudersi in uno specialismo così limitante molto spesso e invece per animare un tessuto critico vastissimo. C'è un suo primo libro che è una raccolta di sazi uscito a metà degli anni 50, si intitola Le frontiere della musica, appunto il titolo Le frontiere indica chiaramente questa impermeabilità questa permeabilità che lui vedeva tra le varie discipline, poi dopo il suo discorso è andato concentrandosi sul terreno musicale in particolare sulla figura di Beethoven, proprio perché dietro Beethoven pulsava tutta una cultura e un mondo tra i suoi studi, per esempio c'è Beethoven il lettore di Omero, Beethoven il lettore di Shakespeare, quindi ha studiato attraverso i documenti, attraverso i testi, proprio gli esemplari che Beethoven sottolineava e ha potuto ricavare molti elementi che hanno influito sulla poetica di Beethoven. Poi un altro lavoro che ha fatto importantissimo su Beethoven è stato proprio lo studio dei taquini di conversazione, questi taquini che Beethoven usava ormai in piena sordità per colloquiare con gli altri naturalmente si trattava di, Beethoven parlava, erano gli altri che dovevano scrivere sul taquino quindi la lettura di questi taquini comportava un'operazione di integrazione molto complessa Magnani è stato uno dei primi che si è occupato di questo lavoro, non solo da un punto di vista strettamente diplomatico o filologico, ma cercando di capire cosa ci fosse dietro questo dialogo sghembo, quindi certamente uno studioso betoveniano. E Magnani poi aveva anche personalmente un fascino particolare proprio dovuto a questa sua ricchezza di esperienze e di sensibilità, insomma aveva avuto la fortuna di essere amico suo e di partecipare agli incontri, questi concerti che lui organizzava chiamando qualche artisti amici, il quartetto italiano, mi ricordo un pomeriggio con Pietro Guarino appunto. Erano concerti con pochissimi invitati, però erano invitati di lusso perché mi ricordo c'era Bacchelli, c'era Zegno Montale, una volta c'era Ilia Erenburg per dire, perché poi c'era anche una frequentazione internazionale da parte, ma insomma è un personaggio abbastanza unico. La passione per l'arte poi ha avuto un preciso riferimento con Morandi, lui è stato uno dei pochi collezionisti, Morandi era un personaggio direi molto particolare, dietro queste immagini del Monaco c'era in realtà la perfetta consapevolezza della sua grandezza, Morandi era certo, sapeva che era il più grande di tutti certamente, quindi la modestia era un velo esteriore e aveva anche secondo me un pizzico di sadismo nel gestire le richieste, era assediato di richieste di Pietro Guarino, quindi lui aveva un circuito di persone fidate alle quali dava regolarmente, Magnani fu una di queste, insomma che ogni tanto andava a trovarlo e riceveva il suo, naturalmente lo acquistava, il suo quadro e questo consentì a Magnani di organizzare una collezione di 40 Morandi.